Ci troviamo a Gromo in località Peschiera vicino al fiume Serio e ci sono i cacciatori di Gromo impegnati al lavoro. Che cosa state realizzando? Stiamo realizzando una pista di schirol, anche invernale, anche per gli sci di fondo, col poligono di biathlon. Quindi i ragazzi qui potranno esercitarsi al sicuro, non sulle strade, avvicinandoli poi a questa disciplina che sta avvenendo in auge, che è il biathlon. Per riuscire a realizzare questa idea è stato necessario anche un accordo con l'amministrazione comunale, il comune proprietario del terreno. Come avete costruito il tutto? Abbiamo costruito il tutto sicuramente con l'appoggio del comune, perché essendo di sua proprietà, all'inizio avevo trovato molti volontari disposti anche a contribuire economicamente. Poi ci sono ancora però, tutto il discorso asfaltatura e così diventava troppo onoroso e il comune ci ha dato una mano. E niente, così con volontari e il resto siamo riusciti ad arrivare alla fine. Una volta completati i lavori, quindi come sarà l'area? Allora l'area poi sarà gestita da noi cacciatori. Faremo degli accordi con gli sci club o chi per esso vorrà venire. Saremo dotati di direttori di tiro per quanto riguarda la pratica del biathlon, invece quanto riguarda la pratica del schirolo o sci, quella sarà libera e gestiranno poi loro. Una pista illuminata, quindi che si potrà usare anche di sera? Sì, una pista illuminata, diciamo nelle ore invernali che i ragazzi fanno sempre di corsa e qui potranno arrivare anche con calma perché troveranno tutto illuminato. Quali saranno le caratteristiche del poligono che vediamo in fase di realizzazione? Allora i ragazzi quando hanno ultimato il giro con gli schirol arriveranno qua, vanno in postazione. Allora per i più piccoli ci sarà il bersaglio aria compressa che è posizionato a 15 metri. Per i più grandi il bersaglio proprio lontano a 50 metri e dovranno fare tipo quelli di Coppa del Mondo. E speriamo che magari qualcuno, qualche ragazzo possa un giorno arrivare davvero alla Coppa del Mondo. Quando verranno completati i lavori? Adesso siamo abbastanza avanti, credo per la fine metà di agosto abbiamo finito. E di fare l'inaugurazione verso la fine, speriamo. Vorrei ringraziare tutti i professionisti, le imprese e gli artigiani che ci hanno dato una mano e anche tantissimo i volontari. Grazie mille.